Vedremo adesso come effettuare, da un punto di vista pratico, l'analisi dei dati raccolti con Tracker. Ricordiamo che il nostro scopo è determinare l'equazione del moto, ossia trovare la relazione, la funzione x in funzione del tempo, che definisce la posizione del corpo in ogni istante di tempo. Ora, guardando il video, guardando il grafico, vediamo che il grafico posizione-tempo è una retta, quindi sappiamo che il moto sarà di tipo uniforme, quindi sarà l'equazione del tipo x0 più v per t meno t0, dove x0 e t0 sono la posizione e l'istante iniziale. Quindi potrebbe essere il momento iniziale del moto, ma in realtà potrebbe essere qualunque punto di quel grafico. La velocità, invece, è definita, ricordiamolo, come rapporto tra spostamento e intervallo di tempo. Allora, la prima cosa che facciamo è misurare dal grafico, determinare a partire dal grafico, posizione-tempo, questa velocità. Sappiamo che la velocità è l'inclinazione di questo grafico. Ora, i punti non sono perfettamente allineati, ma all'incirca seguono, possiamo vederlo, un andamento che ricalca un poco una retta. Quindi è sufficiente prendere alcuni punti su questa retta, due punti, per esempio, abbastanza distanti in modo tale da avere un errore trascurabile, e andare a leggere le loro coordinate. Per esempio, possiamo prendere questo punto, che è un punto che si trova in un punto di intersezione della griglia, quindi vediamo che ha una coordinata temporale circa t è uguale a 4,0 secondi, mentre la posizione, la leggiamo qua, e quindi vediamo che la posizione è circa 100, x è circa uguale a 100 centimetri. Questo sarà il punto finale per definire la velocità. Prendiamo un punto iniziale, per esempio questo. Questo ha una posizione che è t uguale 0,6 secondi, e un istante, e la posizione sarà x circa 21 centimetri, posso immaginare. Poi andando a cliccare su quei punti, in realtà potete leggere le coordinate corrette. Allora, questo è il punto, chiamiamolo A, quindi sono le coordinate del punto A, e questo è le coordinate del punto B. La velocità è definita come delta x fratto delta t, cioè xB meno xA, la differenza tra le x fratto la differenza tra le t. Quindi risulta delta x è questo, scusate, è questo la lunghezza di questo segmento, quindi delta x è uguale a 100 centimetri meno 21 centimetri, quindi 79 centimetri. quindi 79 centimetri. Invece delta t è questo intervallo, quindi delta t è uguale a 4,0 secondi meno 0,6 secondi, e quindi circa uguale a 3,4 secondi. effettuando il calcolo otteniamo che la velocità è circa uguale a 23,2 centimetri al secondo. Per quanto riguarda invece la posizione iniziale e l'istante iniziale, possiamo usare uno di questi due punti, ma anche il punto di partenza, se preferite, insomma un qualun punto qualunque di questa retta. Prendiamo ad esempio questo, il punto A, e possiamo ottenere quindi l'equazione del moto x di t uguale a x con 0, che abbiamo detto essere 21 centimetri, più la velocità, che era 23,2 centimetri al secondo, per t meno l'istante t0, che abbiamo assunto essere 0,6 secondi. Quindi otteniamo, c'è qualche problema, scusate, con la pennetta, a meno 0,6 secondi, e quindi otteniamo l'equazione del moto, che è 21 centimetri più 23,2 centimetri al secondo per t, meno per 0,6, 13,9 centimetri. E quindi x di t è uguale, in definitiva, a 23,2 centimetri al secondo per t, più 7,1 centimetri. Ora, il determinare la velocità, l'abbiamo fatto in maniera molto semplice, misurando il coefficiente angolare di quella retta, della retta del moto, ma avremmo potuto anche ricavarlo dal grafico velocità-tempo. Ora, notiamo in questo grafico che la velocità non risulta costante, perché vedete che i punti non sono tutti alla stessa altezza. Questo però è dovuto al modo in cui il software calcola la velocità, calcolando delta x e delta t, per ogni, tra due fotogrammi adiacenti. E' chiaro quindi che ci saranno errori che si propagano. Possiamo però osservare che tutti i punti sono all'incirca intorno a questa fascia. Scusate, forse è un po' troppo grande la fascia. Possiamo restringerla leggermente. Eccolo qui, sono tutti all'incirca intorno a questa fascia, che come vedete corrisponde in effetti a circa 23 cm al secondo, conformemente a quello che avevamo determinato prima. Un'ultima osservazione la possiamo fare sul diagramma dell'accelerazione. Ora, anche in questo caso, l'accelerazione, vedete che non è costante perché i punti sono in una posizione diversa dallo zero, ma tutti i punti sono all'incirca all'interno di questa fascia. Quindi, il fatto che i punti non siano esattamente su zero è dovuto a errori sperimentali, ma l'accelerazione risulta praticamente identica a zero. Un'ultima osservazione. Le unità di misura dell'accelerazione le leggiamo sul grafico. ma osserviamo che c'è un fattore di scala, cioè i vari punti, per esempio, questo punto non è 1,5 cm al secondo quadro, ma 1,5 per 10 alla seconda cm al secondo quadro. Quindi, attenzione nel leggere questi grafici alla scala di riferimento. Quindi, tutto ci ha portato a dire che si tratta di un moto rettilineo uniforme perché la velocità è costante. abbiamo quindi ottenuto l'equazione del moto che ci permette di sapere in ogni istante di tempo dove si...